Ben ritrovati, oggi parleremo di una questione molto delicata, molto importante sia per Inter che per Milan, una questione fondamentale anche per la città di Milano. Stiamo parlando della realizzazione del nuovo impianto sportivo che andrà a sostituire l'impianto di San Siro, il Meazza. Milan e Inter l'avevano formulato nei mesi scorsi e presentato dei progetti inerenti all'abbattimento di San Siro e alla costruzione di nuovo stadio. C'erano stati due progetti molto molto belli, ma il sindaco Sala allora si dava pessimista sull'esito e sul riscontro del progetto delle due squadre perché non veniva valorizzato San Siro. Era stata presa l'ipotesi della ristrutturazione di San Siro, ma la ristrutturazione di San Siro non permetteva ad entrambe le squadre di avere un impianto moderno, funzionale, come gli altri stadi d'Europa, ma uno stadio comunque rifunzionalizzato. Ora si sta trovando l'accordo, le parti sono molto vicine alla conclusione di questa telenovela. Milan e Inter avrebbero presentato un nuovo progetto al sindaco Sala e alla giunta comunale di Milano per un nuovo stadio di San Siro e l'attuale San Siro che diventa una cittadina dello sport. Vengono mantenute alcune parti di San Siro e vengono garantite l'accesso libero a tutti i cittadini di Milano che potranno usufruire e sognare di giocare nel San Siro dove si è fatta la storia. Quindi un passo importante per Milan e Inter, un altro punto che le due società hanno dovuto andare incontro per quanto riguarda le richieste del sindaco, le richieste della città di Milano, le richieste del consiglio comunale e il diritto di superficie. Milan e Inter che avevano promesso di pagare, avevano comunque patuito di pagare le prime diritti di superficie entro il 2030, ma il sindaco Sala e la giunta hanno voluto il diritto che venisse pagato fin da subito. Quindi Milano e Inter hanno accettato questo tipo di accordo. Nei prossimi mesi verrà ratificato molto probabilmente l'accordo che prevede che Milano e Inter si impegneranno a costruire lo stadio di San Siro con i vincoli del comune e vincoli imposti dal consiglio comunale. E quindi Milano e Inter si spera il più velocemente possibile potranno avere un nuovo stadio di proprietà congiunto tra Milano e Inter, un nuovo stadio moderno, funzionale, che potrà garantire a entrambe le squadre di tornare ai vertici del calcio europeo grazie a ricavi che aumenteranno, grazie anche alle attività commerciali che verranno costruite, verranno diciamo adibite nei dintorni di San Siro, ma soprattutto grazie anche agli sponsor, ai name rights dello stadio e tutti gli sponsor che comunque con uno stadio nuovo, uno stadio moderno e soprattutto funzionale all'avanguardia, gli sponsor saranno molto attratti da questo progetto e da sponsorizzare Milano e Inter. Milano che magari nel frattempo cambierà anche proprietà, quindi ci sarà il passaggio di consegni dal fondo Iliot al nuovo proprietario, quindi diciamo che è un elemento prezioso. Sicuramente il fondo Iliot tiene molto alla costruzione o comunque al progetto che venga ratificato il progetto del nuovo stadio perché permetterà una valutazione maggiore del Milano e quindi il fondo Iliot sta spingendo molto affinché questo progetto vada in porto. Se il progetto andrà in porto in Milano sarà anche molto più attraente agli occhi degli investitori, agli occhi dei magnati in giro per il mondo anche se attualmente come sempre detto noi di rubrica rossoniera crediamo fortemente che Arnaud, il presidente di LVMH, il presidente del gruppo Louis Vuitton sia molto interessato. Vedremo se nei prossimi mesi con la ratifica dell'accordo sul nuovo stadio magari ci potranno essere degli sviluppi in quel senso. Se vi è piaciuto questo video che tratta un po' un argomento molto caro a noi tifosi di Milano, ai tifosi dell'Inter e soprattutto ai cittadini di Milano mettete mi piace al video, condividetelo e iscrivetevi al canale YouTube rubrica rossonera.